Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Guardando un albero e Natale, 20 dicembre, vinto a casa mia, sto sprofondato in coppa Napoletro, vicino a me, mogliema Castile, lascia per un momento questo giornale, per tenere mente all'albero e Natale. Guardando il palluccello colorato, si appiccina i pensieri nel copaleno di gioia, facendo che questa mente si fronestà, torna un desiderio e bene lontano, quasi scordato, i panni a stirà soffronato. La moglie mi sta sentita insieme a me, con il culo che mi afferra, con la sabbia, con la braccia, con la calore, con il fuoco e il piangale. Una carezza, una nuova, una ardente e una carnale, finalmente qualcosa in questa vita fa un attimo vala, quando mi piace questa albera e Natale. Grazie a tutti.